La Juventus è vicina a chiudere un altro contratto con un giovane talento nazionale. Silvano Biggi ha ottenuto grande visibilità nell'Alexandria, più precisamente nell'Under 17, dove è riuscito a mostrare tutte le sue qualità come attaccante, attirando l'interesse della Juventus. Quindi, nel 2023, la Juventus lo ha portato in prestito per sei mesi. Silvano Biggi è stato immediatamente incluso nella rosa dell'Under 17 della Juve, dove si è distinto segnando due gol e fornendo un assist in dieci partite. Così, quello che è iniziato come un prestito si è trasformato in un trasferimento definitivo. Di recente, Silvano Biggi ha compiuto un altro grande passo arrivando nell'Under 19 della Juve, e presto il giovane attaccante italiano farà un altro salto nella sua carriera. Presto, secondo le informazioni, Silvano Biggi firmerà il suo primo contratto professionale con la Juventus. Questo dimostra che la dirigenza capisce che Biggi è un grande talento che potrà dare molti frutti al club. Juventino, supporti il progetto della Juve di ringiovanire la squadra, puntando su giovani promesse? Se sì, lascia un like in questo video.